Il corteo di re, regine, torri, alfieri e cavalli di nero e di bianco vestiti preceduti dai due nobili giocatori in abiti d'epoca, esponenti delle famiglie Ciani, Passari e Fenicia. Ha dato ufficialmente il via a due giorni della quinta edizione di Ruvo Carafe, la leggenda, evento storico rivocativo dell'istituzione della festa dell'Ottavario, curato dal Centro Studi Cultura e Memoria di Ruvo di Puglia e affidato alla direzione artistica di Raffaella Lorusso. Il corteo è stato accompagnato dalle note dei musicantalos diretti dal maestro Simone Salvatorelli e tra due ali di persone nella serata di sabato 10 giugno ha raggiunto Piazza Matteotti dove lo attendeva una scacchiera gigante. I nobili Fenicia e Ciani Passari si sono seduti a tavolino dinanzi a una scacchiera e hanno dato il via alla partita le cui mosse sono state in rima suggerite ai pezzi ordinamente disposti dal giulare cortese Gianluca Foresi. Il Fenicia muoveva i bianchi incarnati negli studenti dell'Itet Tannoia e ha decorato il Ruvo di Puglia guidati dal professor Claudio Rocco mentre i neri del Ciani Passari avevano il volto degli studenti dell'Itis, gli annuzzi di Andria guidati dal professor Giuseppe Rinaldi. Entrambi i docenti fornivano commenti tecnici sulle mosse e sulla storia degli scacchi. La partita che ha reso Ruvo di Puglia per un giorno una piccola marostica è ispirata alla celebre partita di Murphy con il signorendo, il protagonista del romanzo Murphy di Samuel Beckett. Con un'abile mossa il Fenicia ha dato scacco matto e ha vinto la partita. Lo scopo della gara realizzata in collaborazione con Federscapchi Puglia è stato quello di far conoscere una platea più vasta, l'affascinante mondo degli scacchi che sono strategia, calcolo, riflessione. Bene lo sanno coloro che hanno partecipato al torneo semilampo interregionale presso l'ex convento dei Domenicani, uno degli eventi paralleli che si sviluppano intorno a Ruvo Carafa e la leggenda. Tra questi emerge il percorso enogastronomico, il vino oltre le mura a cui partecipa una strada dei vini Castel del Monte con le cantine aderenti e l'associazione italiana Sommeli e Puglia. Corso Giovanni Iatta è animato invece dalla fiera dell'artigianato tipico locale, eventi curati dall'agenzia, evolvendo da visitare l'angolino dei giochi e giocattoli settecenteschi in piazza Matteotti.